I Rosso-Blu sono tornati al lavoro agli ordini del tecnico Carlo Perrone, che sta pensando alla prossima missione di campionato. Battere sabato in casa il tutto cuoio e rosicchiare punti preziosi alle dirette concorrenti alla lotta salvezza. Il cammino è ancora lungo e tortuoso, ma lo spirito e la compattezza messe in mostra a Savona lasciano ben sperare l'ambiente aquilano, rivitalizzato dopo le buone prove delle ultime settimane. Sul fronte squadra, se da un lato c'è da sorridere per il ritorno in campo del centrale difensivo Giordano Maccarrone, lo stesso non si può dire per il compagno di reparto Emanuele Pesoli, che anche oggi è rimasto a riposo per una distorsione alla caviglia. In mattinata l'ex Pescara si è sottoposto ad un'ecografia, ma solo nelle prossime ore si potrà capire realmente l'entità dell'infortunio e se Pesoli potrà recuperare in tempo per sabato. Chi non mancherà invece all'appuntamento con il Tutto Cuoio è il capitano Claudio De Sousa, tornato al gol dopo quasi tre mesi proprio nel blitz di sabato scorso a Savona. È stato importante tornare al gol per me, ma soprattutto per la vittoria, perché in questo momento abbiamo bisogno di punti e è stato fondamentale, è stata una bella partita. Ecco, tra l'altro adesso arriva sabato il Tutto Cuoio, un altro scontro diretto, soprattutto per cercare di accorciare sulle dirette concorrenti. Assolutamente sì, Tutto Cuoio è una squadra che come noi lotterà fino alla fine per la salvezza. Il nostro obiettivo è quello di puntare la salvezza diretta, quindi è una partita fondamentale sabato, come le prossime tre partite del resto. Ormai sembra che l'Aquila abbia trovato una quadratura con questo 3-4-3, tra l'altro forse è migliorato anche lo spirito di gruppo da capitano, cosa pensi? Sicuramente sì, dopo tante partite i nuovi arrivati stanno facendo molto bene, sia Francesco in porta che Emanuele ci hanno dato una grossa mano, quindi abbiamo trovato una quadratura che ci permette di non subire sempre gol, o comunque di non regalare gol agli avversari e quindi partiamo con lo avvantaggiato. Un'ultima sul modulo, perché sei stato schierato dal tecnico Perrone in una posizione un po' inedita per te, esterno del tridente, come ti sei trovato con Perna e San Domenico? Bene, bene, noi abbiamo diverse soluzioni, è normale che io sono una seconda punta, però qualora bisogna giocare con questo modulo mi adatto anche a fare l'esterno a destra, c'è un po' più di sacrificio da fare, ma per la squadra e per l'obiettivo finale sono disposto a farlo. Grazie.